Oh, io ho proprio un talento naturale per far incazzare i brand, mi piace proprio far imbufalire le aziende Guardate qui, sbam, sembrava molto quella pubblicità truffa che girava un po' di tempo fa, quella sbam Oggi ho fatto 3000 euro e voglio che anche tu impari il segreto del mio successo tramite il mio videocorso totalmente gratuito Questo è un portatile che esegue una versione beta che sarebbe dovuta rimanere segreta di Windows 11 Non Windows 9, che non esiste, non Windows 10, bensì Windows 11 E sono sicuro che in tantissimi di voi penseranno che Windows 11 nemmeno esista, ma vi sbagliate, vi sbagliate di grosso Dato che Microsoft terrà una conferenza domani alle 11 in punto Eastern Time, dunque alle 17 circa, ora italiana, giovedì 24 giugno Per annunciare ufficialmente che cosa avviene dopo, what's next? In allegato c'è un'immagine che raffigura il logo di Windows, che crea un'ombra che sembra un 11 per terra E poco dopo questo primo annuncio è stato diffuso il link di un video su YouTube non in elenco Che riprodurrebbe il suono di avvio di Windows rallentato 4000 volte tanto E la durata complessiva del video sono proprio 11 minuti Servono ulteriori prove sul fatto che si chiamerà Windows 11? Secondo me no, ma qualora ne servissero altre? Sappiate che circa da una settimana è trapelata, è liccata una versione di Windows 11 Non si sa ancora se per errore o sotto sotto Microsoft ci marcia sopra Che ad ogni modo è quella che in modo molto illegale e proibito ho installato sul mio portatile Huawei Per poterla provare in anteprima insieme a voi Più specificatamente si tratta della build 21996.1 dev Purtroppo non posso fare il bro e condividervi il link dell'installazione Neanche dirvi come ho fatto, però in linea teorica da domani dovrebbe essere un po' più accessibile per tutti Però quello che posso fare è dirvi come mi sono trovato in questa settimana di utilizzo E soprattutto farvi un riassunto di tutte le principali novità che arriveranno con Windows 11 Le vedremo un giorno prima in esclusiva Dopo una brevissima configurazione iniziale infatti Dove però troveremo già un primo assaggio del cambio di design di alcuni elementi del sistema operativo Come per esempio le checkbox oppure quando selezioniamo una determinata opzione in un menu Oppure anche i tasti che come vedete c'è questo nuovo colore blu scuro predominante E i tasti stessi comunque sono stati un pochino smussati rispetto a quelli di Windows 10 Questo è realisticamente il primo cambiamento che tutti noteranno dopo l'aggiornamento C'è un nuovo logo Non cambia tanto, anzi sono certo che qualcuno potrebbe addirittura non distingualo da quello precedente Però adesso sappiate che è completamente in 2D ed è visto totalmente in modo frontale Sono 4 semplici quadrati messi in disposizione l'uno vicino all'altro Ed eccoci finalmente giunti al desktop, la vostra centrale operativa E sono sicuro che a parte il nuovo sfondo predefinito che possiamo aggiungere alla collezione di wallpaper di Windows Notiamo una differente barra delle applicazioni Sono il solo che la vede più simile alla dock di macOS adesso Dato che non è più tutto spalmato sulla sinistra ma piuttosto tutte le icone sono state centrate al centro dello schermo Sia le icone ma anche i rispettivi menu che richiamano Per esempio qui ho aperto il nuovo menu start Che come vedete è un mix di collegamenti rapidi alle applicazioni Alcune già installate nel sistema Altre invece sono semplicemente dei collegamenti per poterle scaricare Come per esempio Netflix, Photoshop Express non sono direttamente installate Ma su ogni versione di Windows 11 saranno lì pronte per essere scaricate e installate In basso troveremo un elenco di cartelle e file utilizzati frequentemente Così come l'interfaccia per cambiare utente, spegnere o riavviare il computer Mentre in alto a destra premendo su All Apps potremo vedere tutti i programmi installati in ordine alfabetico Apprezzo comunque il fatto che adesso il menu start sia molto più compatto, molto più centrale Soprattutto con una ventata fresca di nuovo design C'è poi il menu di ricerca che prima era incorporato nel menu start Adesso è stato separato Che ovviamente permette di cercare qualsiasi cosa Sia file all'interno del computer che programmi che notizie sul web O addirittura risalire delle informazioni da parte dei widget Adesso ci arriveremo tra poco Esattamente come su macOS il terzo bottone è quello per le scrivanie multiple Adesso avremo proprio la gestione delle scrivanie Potremo creare dei nuovi desktop per avere diversi flussi di lavoro su scrivanie diverse E poi c'è la nuova tendina dei widget Che è questo menu a comparsa e scomparsa Questo sì che sarà ancora spalmato sulla sinistra Che funziona solamente se eseguirete l'accesso con il vostro Microsoft account Io personalmente vi sconsiglio di utilizzare il vostro account principale Microsoft Per loggarvi ad una beta Ma ad ogni modo questi sono i nuovi widget di Windows Anche qui molto in stile iOS Questi sono quelli di default C'è un widget del meteo Uno per tenere sotto controllo la borsa I risultati delle partite Dei campionati in corso Le ultime notizie del mondo Ovviamente tutta questa sezione sarà personalizzabile Quindi potremo rimuovere, spostare o installare Dei nuovi widget quando saranno disponibili E poi vabbè avremo le classiche applicazioni Che potremo aggiungere a nostra discrezione Nella barra delle applicazioni Nella piccola taskbar sulla destra Invece quella delle icone rapide Abbiamo una nuova icona per Windows Defender Ora come vedete anche la grafica in generale è cambiata Per esempio quando apriamo Explorer Risorse Se dovessimo accedere alle cartelle principali del nostro utente Vedete che è tutto molto più colorato Molto più in tema mobile minimal Come vi dicevo bordi più smussati delle finestre Adesso non troveremo più un angolo retto E tra l'altro oltre al principale nuovo sfondo Che è quello che vedete alle mie spalle Vi saranno tutta una serie di nuovi sfondi Aggiunti come predefiniti Che potrete impostare qualora vi piacessero Sono questi qua che vi sto facendo vedere adesso E inoltre sempre parlando di icone Cercando pannello di controllo E accedendo alla stessa applicazione Troviamo anche qui un restyling Abbastanza completo delle icone Anche se dovessimo premere su icone grandi E visualizzare tutte le funzioni del pannello di controllo Vedete che qui hanno lasciato molte icone Direttamente da Windows Vista Cambiatele per favore Ci sono anche delle nuove animazioni Quando in generale si aprono Si chiudono Si minimizzano Si massimizzano delle finestre E io le adoro Perché sono animazioni tanto semplici Quanto d'impatto Microsoft non ha fatto nulla di complesso Nessuna animazione pesante Semplicemente però è diversa Rispetto a quella di Windows 10 E degli altri Windows Quindi molto banalmente Io sono rimasto lì tre ore Ad aprire le applicazioni Soltanto perché mi piaceva La nuova animazione di apertura E tra l'altro parlando di Windows Aero La funzione che permette di piazzare una schermata Tutta sulla sinistra Tutta sulla destra O in generale in una porzione specifica di schermo È migliorato Dato che da Windows 11 in poi Se dovessimo fermarci con la freccina Sul bottone di mezzo Quello accanto alla X Che serve a massimizzare O minimizzare una determinata finestra Vedrete che Aero ci proporrà Già delle configurazioni specifiche Su cui spalmare questa finestra Per esempio tutta sulla sinistra Tutta sulla destra Oppure in uno dei quattro angolini Dello stesso Devo dire che questa funziona molto bene Sarà veramente un salvavita Per chi apprezza il multitasking E deve fare più operazioni in una Con il suo laptop Windows C'è anche una novità Per gli smanettoni Per chi utilizza il terminale Il prompt dei comandi Adesso innanzitutto Facendo tasto destro Su una qualsiasi cartella Molto banalmente anche il desktop Dato che è una cartella Vi sarà direttamente il bottone Open in Windows Terminal Quindi apri nel terminale Cosa che era disponibile anche prima Ma non in tutte le versioni di Windows Stavolta bisognava tenere premuto Alto Shift Non mi ricordo Adesso invece è proprio nativo Basta fare tasto destro E tra l'altro adesso appunto C'è questo Windows Terminal Che è diverso dal CMD Di fatto è Il prompt dei comandi Windows Shell E Windows Azure Tutto nello stesso programma Che ha preso il nome Di Windows Terminal Infatti da questa finestra Premendo il più Se ne apre un'altra O addirittura Premendo sulla freccettina Si può scegliere Se aprire una shell Del CMD Del Windows Shell O di Azure E ovviamente tutte queste tre app Rimangono comunque accessibili Separatamente Se dovessi cercare CMD Appunto per esempio Aprirà il prompt di comandi specifico Altra chicca che ho notato Che mi è piaciuta molto Andando nelle impostazioni schermo Qualora dovessimo avere Più monitor collegati al computer Con Windows 11 Microsoft sta aggiungendo Delle chicche Come per esempio La possibilità di ricordare Se una determinata applicazione La si tiene aperta Sul computer principale O sullo schermo secondario In modo tale Ogni volta che attaccheremo Il computer a quello schermo L'ordine delle applicazioni Verrà disposto Ricordando quello Della volta precedente E insomma ragazzi Questa era una rapida preview Di Windows 11 In attesa Della presentazione ufficiale Che ve lo ricordo Si svolgerà domani Alle 17 ore italiane Io ovviamente la seguirò E qualora ci sarà Altro di cui parlare Ne parlerò su Instagram O magari Se proprio ci sarà Tanto di cui parlare Farò un altro video a riguardo Fatemi sapere comunque nei commenti Che cosa ne pensate E in generale Quali contenuti Vorreste vedere Su questo nuovo Windows 11 Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link Ve lo lascio qua sotto Qui in descrizione Cliccando qui là Ti potete raggiungere Altri miei due video E invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao